L'Aquila Rugby Club vince il derby in casa della Gran Sasso a Villa Sant'Angelo, 27 a 20. Una squadra giovane, quella nero-verde, che tuttavia domina soprattutto nel primo tempo, con grande grinta e orgoglio, i grigiorossi di Cocce Lorenzetti. Forti gli aquilani, soprattutto in mischia chiusa. Sembrano cogliere di sorpresa la Gran Sasso sotto lo sguardo entusiasta di oltre 700 tifosi giunti per sostenerli. E così, almeno per questa domenica, i problemi societari delle ultime settimane passano in secondo piano, dimostrando che la squadra c'è, nonostante i numeri ristretti. Infatti scendono in campo in 19, ossia con solo quattro atleti di riserva, di cui una prima linea obbligatoria. Il match si apre con un calcio dell'estremo sudafricano della Gran Sasso, Jess Dutoit, ma i nero-verdi difendono bene e dimostrano la loro superiorità in mischia chiusa, realizzando una meta tecnica al 31esimo, seguita da altra meta di Ciofani. La Gran Sasso reagisce con il capitano Gianpietri che marca meta, eludendo la difesa aquilana. La ripresa si apre con meta del nero-verde Nicola Rettagliata, a cui controbatte il grigiorosso Santa Venere e trasforma Dutoit. Rettagliata sigla un'ultima marcatura trasformata da Cialente e la partita si conclude 20-27. Mandata oltre le aspettative, siamo strafelici di quello che hanno fatto oggi i ragazzi sul campo. Penso che più che una partita tecnica sia stata una partita giocata con molto cuore, con molta determinazione e con molta voglia di dimostrare che siamo ancora vivi nonostante tutte le difficoltà. Vincere qua sul campo della Gran Sasso prima della partita non era immaginabile, però tutti nel nostro cuore speravamo di fare un'ottima gara, siamo andati oltre quelle che sono le nostre aspettative, dobbiamo solo ringraziare questi ragazzi e continuare a lavorare, sperando di tornare un minimo alla normalità. In queste settimane si è parlato anche troppo sulla carta scritta, era giusto scendere in campo, comunque fossero andate le cose, sarebbe stata comunque una vittoria mettere i giocatori in campo. Sì, è un gruppo giovanissimo, è lo stesso gruppo dell'anno scorso, peccato alcune persone che sono andate via, più andiamo avanti e più siamo amici. Abbiamo vissuto, ripeto, abbiamo vissuto delle problematiche enormi, forse non erano neanche le nostre, però noi nonostante tutto ci abbiamo messo la faccia, dentro e fuori dal campo. Oggi siamo scesi in campo, abbiamo dimostrato di essere i veri uomini, abbiamo dimostrato di onorare questa maglietta e abbiamo portato a casa il risultato. È strameritata, i ragazzi sono veramente eccezionali e un grande applauso va a loro. I ragazzi hanno fatto una bella partita, dobbiamo crescere molto in mischia chiusa, al momento abbiamo un paio di giocatori fuori ruolo che si stanno sacrificando, per cui abbiamo perso confidenza lì davanti, è stato tutto più difficile anche con la meta tecnica, però non c'è niente da far notare ai miei ragazzi che comunque sono stati all'altezza per il resto delle situazioni.